Ma come fanno i pesci a dormire se stanno sempre con gli occhi aperti? Hanno cicli respiratori più lenti quando fanno i sonnellini, possono soffrire di privazione del sonno e producono la melotonina, che regola il loro ciclo del sonno in base alla luce ambientale. In alcuni mammiferi acquatici come il delfino, il sonno è uniemisferico, cioè dormono chiudendo solamente un occhio così da far riposare mezzo cervello alla volta, mentre l'altro rimane vigile. In questo modo si assicurano di andare in superficie per respirare. Non possiamo tralasciare alcuni squali che devono mantenere l'acqua a scorrere all'interno delle loro branche per respirare e quindi non smettono mai di nuotare. Tuttavia ci sono altre specie di squali che possono stare fermi senza soffocare. Quest'ultimo stato di riposo è chiamato behavioral sleep. Galleggiano immobili, spesso sul fondo o vicino alla superficie dell'acqua. Sono lenti a rispondere alle cose che accadono intorno a loro o potrebbero non rispondere affatto. La funzione del sonno è quella di consentire al cervello di consolidare nella memoria le cose che è un tipo di attività all'animale e spesso avviene attraverso i sogni.